Leonardo Candelone, innanzitutto come valuti questa partita? Direi positivamente, soprattutto il primo tempo abbiamo cercato di partire subito forti e mettere la partita nei binari giusti, quelli che volevamo. Poi il secondo tempo sapevamo che loro magari sarebbero spinti più in avanti, ma alla fine abbiamo retto bene, abbiamo anche avuto le occasioni per fare un altro gol e alla fine penso sia una vittoria meritata. Una partita che ha avuto un esito simile a quello di domenica? Sì, diciamo che anche loro più o meno non hanno cambiato tanto, quindi il gioco loro sapevamo che era quello, comunque di una squadra di qualità, anche se comunque con poca esperienza perché sono tutti giovani, però penso abbiamo interpretato come domenica bene la partita. Per te è un gol importante? Sì, sicuramente il segnale è sempre importante, poi vorrei anche sbloccarmi in campionato, però iniziamo, sono sempre gol quindi sono contento. Ce lo descrivi? Diciamo che quando ho visto Simo arrivare sul fondo sapevo che di solito in allenamento mette una bella palla come ha fatto oggi e quindi poi era importante arrivarci col tempo giusto e metterla dentro, sono contento. Hai schiorato il secondo meno un pari di volte? Sì, diciamo nell'ultima occasione potevo fare un po' meglio, però la stanchezza era un po' arrivata al limite, anche se potevo fare un po' meglio.